Buongiorno 1, buongiorno 2, buongiorno 3, Adriana, Adriana? Sì, allora quest'oggi siamo a Venezia, manca ancora una coppia, siamo noi tre, io facciamo la valletta di Ilaria, esatto, Venezia alle nostre spalle, stiamo aspettando anche Elisabetta e Riccardo perché siamo tutte accoppiate quest'oggi per una giornata, dillo tu Adriana cosa facciamo oggi 24? Siamo a 24 ore su uno yacht, uno yacht con la spa, giusto perché una spa botta, però non è quelle spa di scambi, dico, ma perché, vedi che sei tu che sei maliziosa, no mi è venuto in mente il nostro scherzo, vi ricordate, abbiamo fatto uno scherzo una volta a Michela, ciao Michela, in cui fingevamo di dover andare su questo yacht per scambiare, eh vedi quello volevo dire, subito a pensare male, eccola, è maliziosa, è lei, senza scambi, guardate che bella Venezia, ragazzi dite ciao, no, non ti filo, ragazzi, amore di ciao, no, 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 niente, siamo arrivati, e questa è Marta, Marta fai un ciao, è il capitano che ci accoglie, buongiorno, io le do l'altra mano, Ilaria, e questo è il nostro yacht, anzi è la mia residenza estiva, e lì c'è la Pistols, ma questo look, no, anche perché mi sa che il trencio è lo stesso, buongiorno, amici, no, 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 è mia, ho già detto che è mia, ho già detto che è mia, buongiorno, ecco l'ultima coppia, vi portiamo a Tentation Island, anche a noi, immaginate che c'è una fotocamera, amore non sei abituato, vero, a queste cose, io sono nel mio abito naturale, dicevo dei video, scemo, violenza, disfacchiamo, dimostra, disfacchiamo, dimostra, disfacchiamo, Allora adesso abbiamo fatto un piccolo aperitivo, ci siamo cambiati perché è stata una giornata stupenda e adesso stiamo andando un pochino più a largo e siamo tutti qua a prendere il sole e ora mostriamo il backstage di quello che sta accadendo Allora speriamo che non finisca Vai Diego canta Allora Allora dopo che abbiamo fatto il bagno nella jacuzzi al piano di sopra siamo scesi e siamo venuti a largo vedete che non c'è più Venezia alle mie spalle e adesso stiamo per pranzare Cos'è che l'altro faceva il capitano? Ci dava del prosciutto crudo e un sacco di coppe buonissime e quindi poi forse, forse facciamo il bagno Date il nostro capitano cosa ha fatto Cioè cosa ci ha preparato Oltre il tavolo viene il salumi e anche un piatto di pasta Sono tutte pronte per andare nel bagno Dico il tema che in foto non si vedrà molto perché c'è un sacco di vapore Comunque ve lo faccio vedere Il sole è ufficialmente tramontato Ne sono venuti a avere una tisanina Giusto così in piazza San Marco Da qui così No Adriana Tutti i giorni vero? Tutti i giorni Abbiamo fatto un bellissimo shooting Qui c'è il mio amore che si è subito calata nella parte Siamo arrivati a cena Ciii Anche io la pista Non immortaliamo questo mulezzo Ciii Amore c'è il capitano Il dolce Bomba misù Devo Vai vai bombalo Fai tu per favore Buongiorno Oggi giorno 2 Qui a Venezia Alle mie spalle Noi abbiamo dormito nella residenza terrestre Cioè sulla terraferma E adesso stiamo raggiungendo gli altri in barca Per fare colazione La pista non è via dalle 6 e mezza E si è fatta questa treccia Io sono sveglia da 10 minuti Eccoci Guardate che colazione che ci hanno preparato Senti fortunelli Adriana ha fatto una torta stanozze Ciao Fabio Buongiorno Stiamo tornando a casa Ragazze fate un ciao 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 Lasciate tanti pallini in su E iscriviti al canale Oggi ci sono i ciletti Ciao